Varese è una città giardino e sicuramente invece abbiamo grandissimi problemi di viabilità. Grandissimi problemi di viabilità perché effettivamente la parte soprattutto alta della provincia è stata impoverita proprio per una mancanza di sprastrutture. Le aziende si sono spostate sul sud della provincia e finalmente in questi giorni si sta veramente valutando l'opportunità invece di realizzare una tangenziale che libera la città nel centro proprio di una viabilità sicuramente più semplice e meno congestionata e dare la possibilità effettivamente alle aziende produttive di avere una viabilità diversa che porta comunque tutto sulla 8 che sappiamo tutti essere estremamente contingentata perché comunque abbiamo un traffico spaventoso che tutte le mattine porta a quella che è la realtà delle province alte sulla provincia di Milano. La mattina è un problema andare a Milano perché comunque ci sono code di 2-3 km ininterrotte e si sta magari dalle mezzole ferme. Perciò raggiungere Milano che sono a una distanza che va dai 45 ai 50 km ci vuole un'ora e mezza.